Carnevale 2016 a Gela, stilato il programma promosso dall'amministrazione comunale. Si parte domani dalle 20 a luna con la Notte Bianca. Appuntamento in Piazza Umberto I, lato Chiesa Madre, con la sfilata di moda organizzata da Conci Event ed ancora gastronomia e distribuzione di frittelle. Domenica 7 febbraio dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale. Lunedì 8 febbraio alle 9, al Palacossiga, festa di carnevale organizzata dalla scuola di primo grado, secondo circolo didattico, e martedì 9 febbraio dalle 10 alle 13, sfilata in maschera con gli alunni delle scuole primarie e secondarie, banda musicale e majorette. Dalle 10 alle 14, in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura dell'Istituto Alberghiero. Alle 13 e 30, in Piazza Umberto I, premiazione della scuola per la maschera più bella a cura di Gela Centro e Conci Event. Dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale ed in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura, sempre dell'Istituto Alberghiero. Con la città vive un periodo davvero di sofferenza economica, ma per la prima volta probabilmente i media, anche a livello regionale e nazionale, stanno un po' aiutando a far sì che si conosca la vertenza a Gela. Al di là di tutto questo siamo a Carnevale. I bambini di riflesso chiaramente hanno vissuto questa situazione di tensione, di tristezza nelle famiglie, ma anche nel più ampio complesso della città. A loro è dedicato interamente il Carnevale con tre giorni di allegria e divertimento, affinché non possano loro poi piangere le conseguenze di questa area di tensione. Sì, no, sono quattro giorni che servono proprio per dare quella freschezza ai ragazzi e ai bambini che ne hanno sicuramente bisogno. È stato impostato quattro giorni di Carnevale in piazza in modo tale da poter almeno allontanare dai problemi che giornalmente da diverso tempo ormai colpiscono le famiglie e quindi in modo riflesso anche ai bambini. Quindi quest'anno forse è ancora più importante perché bisogna non rubare la giovinezza ai nostri ragazzi e quindi credo che quest'anno proprio era necessario fare qualcosa, anche per consentire ai grandi di distrarsi un attimo. Le tensioni sono elevatissime, le aspettative pure, però un attimo di pausa credo che possa fare bene a tutti ma soprattutto ai bambini a cui è rivolto quest'anno il Carnevale. Il 6 vi sarà un evento in piazza con un'associazione, con diverse associazioni, il Consorzio Gera Centro che faranno l'apertura prolungata fino alle ore 24, il 7 ci sarà un concerto dell'unica banda che abbiamo in città con la presenza delle scuole, l'8 ci sarà un evento al Palacossiga sempre con le scuole gelesi e l'8, il martedì 8, il martedì grasso, vi sarà una grande sfilata, l'alberghiero in piazza, insomma tante attività ed eventi che sono organizzate in parte dall'amministrazione comunale, in parte dai commercianti che ci stanno dando una mano d'aiuto.